Bene ragazzi, il prossimo animale di cui parlerò, presumo, lo conoscerete tutti quanti per il redeone di cui è uscito il nuovo film solo quest'anno, il 21 agosto, ovvero Timon come potete vedere, Timon è un suricato, suricata suricata, ha detto il nome scientifico, è Myrcat chiamato in inglese è un animale pericoloso, sì, i suricati sono molto più pericolosi di quello che pensate ma non perché possono aggredire l'uomo bensì perché possono intimorire o a volte appunto far male alla gente, ecco, diciamo così Bene, adesso, il prossimo si chiama il cane della prateria è praticamente una marmotta, appunto è una marmotta, non è proprio un cane è conosciuto così per i propri versi che fa che sono simile a degli abbai dei cani, ecco perché è stato chiamato così ed è in rischio minimo ed è molto più sociale di quanto possiate immaginare infatti possono anche scavare delle buche sottoterra e possono vivere anche in America del Nord ed è in rischio